Musica Amici di TV6, bentornati dalla redazione dell'Aquila per una nuova edizione della TG6. In apertura parliamo dell'accordo CNA-Scuole, un protocollo di intesa per favorire l'alternanza scuola-lavoro appunto in un progetto che coinvolgerà le scuole superiori abruzzese, dettagli con Daniela Rosone. Potenziare l'offerta formativa delle scuole abruzzesi attraverso la realizzazione di percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro con il mondo dell'artigianato e della micro-impresa pronto ad aprire le sue porte per realizzare questo obiettivo. Vuole rappresentare un originale contributo ad uno dei punti più innovativi della recente riforma della scuola voluta dal governo Renzi, il protocollo d'intesa sottoscritto questa mattina all'Aquila dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale Ernesto Pellecchia e dal presidente regionale della CNA Abruzzo Italo Lupo. Un documento che attraverso una serie di azioni e percorsi mirati punta a favorire la crescente integrazione tra il mondo della scuola e l'impresa rompendo un'antica separazione attraverso la creazione di percorsi originali che coinvolgono tanto gli istituti scolastici superiori che il sistema delle imprese. Mettendo a disposizione tutta l'organizzazione e tutto l'entusiasmo fra l'altro nel portare avanti questo discorso. Il rapporto tra la scuola e il mondo del lavoro deve essere sicuramente messo come una priorità. Troppo tempo, per troppo tempo, sono state due realtà ognuna indipendente dall'altra. Quando effettivamente sia da parte delle scuole, degli studenti, sia da parte dell'impresa c'è questa esigenza. L'accordo promette di realizzare un organico collegamento tra scuole e CNA attraverso un partenariato stabile, efficace e pluriennale. Intende favorire la formazione degli studenti relativamente a competenze mirate, ad una crescita professionale strettamente legata alle esigenze del territorio, incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti attraverso l'attuazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, degli istituti tecnici e professionali per almeno 400 ore e dei licei per almeno 200 ore nel triennio. Coinvolgere in questo percorso un numero elevato di imprese e alunni, oltre a un numero di scuole significativo, correlare poi l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. In Abruzzo sono interessate le scuole superiori e c'è un investimento di 400 mila euro. È importante la firma di questo protocollo d'intesa con il quale noi andiamo ad aggiungere un importante tassello al quadro di collaborazione, di sinergia interistituzionale che stiamo cercando di sviluppare proprio per facilitare l'attivazione di questi percorsi di alternanza scuola-lavoro a livello scolastico. Ci spostiamo all'Aquila perché questa mattina alla presenza dell'amministratore delegato di Trenitalia, Barbara Morgante, sono stati presentati quattro nuovi vagoni modello swing che opereranno nella tratta che unisce il capologo d'Abruzzo a Sulmona. Giorgio Alessandri. Buone notizie per i pendolari della tratta all'Aquila-Sulmona. È stato consegnato questa mattina il primo dei quattro nuovi treni swing che garantiranno 14 collegamenti giornalieri. Più comfort, più affidabilità e puntualità garantisce l'amministratore delegato di Trenitalia, Barbara Morgante, parlando dei nuovi quattro treni che si aggiungono a quelli denominati jazz, già in servizio dal dicembre 2014. Il primo partirà alle 16.17 da Sulmona verso l'Aquila e il servizio per i due terzi sarà tutto fatto già da domani con questi nuovi treni. Da fine febbraio, con l'arrivo del quarto ed ultimo, tutto il servizio Sulmona-L'Aquila sarà effettuato con questi nuovi treni che sono treni, lo vedete voi stessi, belli esteticamente perché bisogna curare anche questo, esternamente ma soprattutto internamente garantiscono comfort, garantiscono security, hanno delle videocamere all'interno e all'esterno per il controllo dell'ambiente interno ed esterno, hanno delle prestazioni ottime, quindi assolutamente credo verranno appressati da quanti tutti i giorni e non solo tutti i giorni hanno necessità di fare questo tipo di spostamento. In arrivo poi anche altri cambiamenti e novità per velocizzare il collegamento tra aree interne e aree costiere. A questo investimento ne segue uno nelle prossime settimane riguardante la dotazione ferrata nella direzione L'Aquila-Pescara che riduce i tempi di percorrenza. Sono due fatti coerenti, assolutamente corrispondenti, che permetteranno agli Abruzzi di diventare Abruzzo, come dice Pierpaolo Pietrucci. Dall'Aquila alla provincia dell'Aquila, perché neanche i lavori per la ricostruzione post-sisma sono sufficienti per risollevare le sorti dell'edilizia della provincia dell'Aquila. La denuncia arriva dalla CISL che appunto accusa un calo di lavoratori nel settore. Vediamo. Non basta il cantiere più grande d'Europa, ma poi davvero così, a dare l'infa e slancio al settore dell'edilizia in città e in provincia dell'Aquila. Anzi, i lavoratori del comparto sono diminuiti, così come il monte salari e stipendi, il che, tradotto in termini pratici, significa meno economia per un intero territorio, non solo per operai e carpentieri. A lanciare l'allarme è la CISL attraverso il segretario provinciale Paolo San Germano ed il segretario regionale della Filca Pietro Di Natale, che sottolineano come vi siano diverse aziende che applicano contratti non di settori, tipo metalmeccanico o dei servizi, fanno a meno di transitare nelle casse edili locali, in cui sarebbero obbligate a versare eludendo i pagamenti. La diminuzione delle ore lavorate in busta paga, spiegato di Natale San Germano, comporta la perdita di parte della retribuzione, di prestazioni assistenziali aggiuntive, di contributi per la pensione e di premialità. Una diminuzione di lavoratori e di massa salariale preoccupante, affermano i sindacalisti. Le casse edili della provincia dell'Aquila, con la nuova procedura del DURC telematico, sono state estromesse dal controllo del settore, con ripercussioni pesanti per i lavoratori. Le imprese infatti risultano in regola anche dichiarando un solo lavoratore, mentre gli organismi preposti non sono più nelle condizioni di controllare la congruità, ovvero la percentuale di manodopera occorrente, per realizzare un appalto rispetto all'importo finanziato. Conseguenza diretta sono una elevata evasione fiscale e contributiva, che penalizza anche tutte quelle imprese serie della provincia che operano nel pieno rispetto delle regole. Risultano infatti meno versamenti per i lavoratori, meno prestazioni assistenziali, meno premialità, meno fondi da investire in sicurezza e meno formazione. Restiamo all'Aquila adesso per un'informazione di pubblica utilità. È di nuovo attiva da oggi l'anagrafe online del Comune dell'Aquila, il servizio che consente di scaricare e stampare direttamente dalla computer di casa i certificati di Stato civile e la gran parte di certificati anagrafici. L'anagrafe online era stata sospesa in occasione della complessa operazione di aggiornamento della software dei servizi demografici. Il collegamento è assicurato dal banner nella pagina iniziale della sito internet del Comune www.comune.l'aquila.it. All'interno della sezione sono riportati tutti i dettagli per chi volesse iscriversi al servizio. Coloro che si erano già accreditati prima della sospensione potranno utilizzare le stesse credenziali ricevute al momento dell'iscrizione per l'accesso all'anagrafe online. E restando sempre all'Aquila, parliamo della due giorni che c'è stata nello scorso weekend della seconda edizione dell'evento Sposiamoci. 32 professionisti del settore hanno unito le forze hanno presentato appunto un'esposizione con i vari stand per offrire le novità e appunto tutti i servizi ai visitatori la maggior parte futuri sposi. Special guest della mattinata di domenica la senatrice Stefania Pezzopane accompagnata dal fidanzato Simone noi l'abbiamo intervistata e la senatrice Pezzopane ci ha parlato del futuro matrimonio. Vediamo. Due giornate interamente dedicate agli sposi e alla programmazione del loro giorno più importante 32 professionisti hanno unito le forze partecipando all'evento Sposiamoci giunto alla seconda edizione presenti fotografi, musicisti, fioristi, gioiellerie negozi di estetica e bomboniere atelier di moda tipografie, parrucchieri, negozi di arredo e design per liste nozze pasticcerie e agenzie di viaggio Un messaggio forte è quello lanciato dai commercianti aquilani che in un momento non facile per l'economia post-sisma della città hanno voluto stringersi attorno l'uno con l'altro lasciando da parte la concorrenza Ciascun espositore ha avuto a disposizione un proprio angolo per mettere in mostra novità e offerte da presentare ai visitatori la maggior parte i futuri sposi L'idea è nata da Giulia del proprietario del ristorante Villa Giulia lei, forte dell'esperienza ovviamente pluriennale della loro struttura ha pensato di coinvolgere in una unione di professionisti creare la possibilità per il pubblico aquilano non solo perché ci sono spesso presenti anche coppie del territorio marzicano proporre comunque un nucleo di professionisti di alto livello per dare alle coppie in procinto diciamo di organizzare il loro matrimonio una proposta di un livello sicuramente elevato è un livello che tra l'altro molte persone non sanno ma i professionisti che ruotano intorno al matrimonio nella zona dell'Aquila, nella città dell'Aquila sono di un livello tutti quanti di un livello molto molto alto sul territorio nazionale Special guest della mattinata di domenica la senatrice Stefania Pezzopane che nel 2017 convolerà a nozze con il compagno Simone Per la coppia VIP aquilana del momento Sposiamoci è stata l'occasione per programmare il futuro matrimonio Stiamo vedendo nel 2017 abbiamo programmato il nostro matrimonio e ora ci stiamo pensando lo stiamo immaginando lo stiamo organizzando e questa mattina è una presenza anche mista istituzionale e di interesse personale e ho partecipato a tanti eventi in Abruzzo e sono particolarmente felice che anche l'Aquila abbia pensato di mettere insieme tante 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 belle energie Apriamo adesso l'ampia pagina dedicata allo sport iniziando dall'Italia di rugby perché ieri a Roma è stato presentato il calendario del nuovo 6 nazioni l'Italia esordirà sabato 6 febbraio contro la Francia una nostra troupe era a Roma e al microfono di Fabio Zenadocchio possiamo ascoltare il tecnico degli azzurri Jack Brunel è il capitano dell'Italia Sergio Parisse figlio dell'aquilano e omonimo Sergio Parisse vecchia gloria dell'Aquila scudettata ascoltiamo una nazionale che non può aspirare a vincere il 6 a nazioni per ovvi limiti tecnici dove si può arrivare però? è inutile dare adesso degli obiettivi delle posizioni prima di un torneo come ha detto lei sicuramente è difficile poter immaginare di vincere questo torneo perché siamo una squadra soprattutto questa squadra che inizierà questo torneo con tantissimi giovani con tantissimi giocatori assordienti quindi la volontà è sicuramente di far vedere al pubblico una squadra con tanta voglia con tanto entusiasmo che cerca di dare il massimo e io sono convinto che se riusciamo a farlo in ogni singola partita possiamo avere anche le nostre opportunità di torcerci qualche bella soddisfazione domanda un po' scontata però ci sono tanti giovani nella nazionale si rinnova sta cambiando anche il tecnico dove si andrà a parare cosa ci potremo trovare nel sei nazioni dell'anno prossimo che cosa potremo trovare alla vigilia di questo sei nazioni se mi chiedi già cosa ci possiamo aspettare nel prossimo sei nazioni non ti saprò dire ma sicuramente e ovviamente ci sarà un altro allenatore sicuramente immagino che tantissimi di questi giocatori soprattutto gli esordienti faranno parte del gruppo quindi non ti posso dire cosa ci aspetteremo nel prossimo sei nazioni penso che sia importante già in questo sei nazioni dare un segnale positivo ma non è in rapporto al contratto che è particolare perché è una competizione noi entriamo in una competizione è particolare è vero perché ci sono qualche movimento nella squadra nel gruppo che l'ho già detto tra i infortunati esordienti e tutto ma la nostra ambizione sempre è all'inizio di un torneo all'inizio di un ciclo così di creare in cinque giorni in una settimana un gruppo una squadra è quella la prima ambizione di creare un spirito e di là cercare a essere e soprattutto la nostra ambizione sarà di essere attore del gioco attore delle partite di rimanere nelle partite fino alla fine di rimanere nel torneo sul stesso livello abbiamo questa ambizione dal rugby al calcio di Lega Pro l'Aquila è in attesa di tornare in campo domenica contro il Pontedere intanto a tenere banco è il mercato nell'ultima settimana della sessione invernale siamo ai dettagli per il trasferimento in prestito del centrocampista del Pescara Danilo Bulevardi queste le altre trattative nel servizio ore bollenti di mercato nell'ultima settimana della sessione invernale dopo gli arrivi del portiere Scotti e del difensore Pesoli l'Aquila è ad un passo dal centrocampista del Pescara Danilo Bulevardi quest'anno una presenza in B con la banda di Massimo Oddo il mediano originario di Mazzara del Vallo sembrava ad un passo dal Catanzaro ma nello scorso weekend il DS Aquilano Alessandro Battisti si è intromesso nella trattativa e ha strappato il sì di giocatore società biancazzurra nelle prossime ore attese firma e ufficialità dell'operazione in uscita restano sul taccuino i vari Anderson Ligorio e Stivaletta ma le richieste sembrano latitare per quanto riguarda invece il portiere Giovanni Zandrini scaricato ufficialmente dal tecnico Perrone dopo la tribuna contro l'Arezzo si cercherà di piazzarlo altrove entro fine settimana altrimenti sarà destinato a fare addirittura il terzo da qui a fine campionato sul fronte infortuni buone notizie arrivano sul conto del terzino siciliano Dennis Di Mercurio che è tornato a correre dopo il problema muscolare di dieci giorni fa L'Aquila può sorridere anche per il nuovo acquisto Emanuele Pesoli che giovedì sarà di ritorno da Cesena dopo i 15 giorni di cura al Polpaccio se non ci saranno ulteriori intoppi l'ex Pescara sarà finalmente a disposizione di Perrone forse già per la trasferta di domenica a Pontedera E prima di chiudere vi ricordo l'appuntamento di questa sera ore 21 e 45 con una nuova edizione di Prol'Aquila condotta da Giulio Nardi ospite in studio il neoportiere dell'Aquila Calcio Francesco Scotti Bene è davvero tutto vi ringrazio per la cortese attenzioni e buon proseguimento con i programmi di TV6 ci rivediamo domani per una nuova edizione del nostro telegiornale Arrivederci Grazie a tutti